Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi ospite nei nostri studi Domenico Pettinari, presidente del Movimento Pettinari per l'Abruzzo. Buonasera, bentornato nei nostri studi. Movimento che è nato a primavera di quest'anno, ha avuto un'espansione, si è espanso in varie realtà, tra cui Chieti, l'ultima, su cui saranno tra due anni le elezioni comunali e che guarda anche naturalmente alla sfida per la grande Pescara. Ma di questo parleremo più tardi perché naturalmente con lui non posso che iniziare dalle notizie che provengono dalla sua attività politica, anche se hanno un riflesso poi sul fronte giudiziario. è stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Pescara, Procuratore Capo Bellelli e da Gennaro Varone sulla gestione del pronto soccorso del nosocomio cittadino. Qual è, insomma, ricordando ai nostri telespettatori, il contenuto delle sue considerazioni, anche dei suoi dossier raccolti tra gli utenti soprattutto del pronto soccorso di Pescara che poi hanno portato alla decisione da parte della Procura di approfondire dal punto di vista giudiziario eventuali responsabilità pettinari. Sì, grazie direttore, grazie davvero. È una tematica che mi sta davvero a cuore. Io negli ultimi dieci anni mi sono occupato molto di sanità e voglio dire che di fronte al pronto soccorso di Pescara io ho messo in atto una serie di proteste, di manifestazioni anche molto forti. Io mi sono incatenato dieci volte per richiamare l'attenzione sulle grandi problematiche del pronto soccorso e della nostra sanità. A febbraio del 2023 io faccio una delle mie tante conferenze stampa e produco un dossier dettagliatissimo su tutte le criticità del pronto soccorso di Pescara. Allora ero vicepresidente del Consiglio regionale e il giorno dopo trasmetto alla Procura della Repubblica il dossier unitamente a tutti gli articoli di stampa che sono usciti. E devo dire che quel dossier analizzava in maniera certosina e precisa le tre grandi criticità in ingresso, come le definivo io, interne e in uscita. In ingresso noi sappiamo che anche per una serie infinita di accessi inappropriati io mi vado ormai ripetendo e sgolando da tempo dicendo che i codici bianchi e i codici verdi non devono entrare in pronto soccorso ma anche il depotenziamento della medicina territoriale degli ospedali minori di Penne e Popoli fanno sì che tutti gli utenti entrano ad imbuto nel pronto soccorso di Pescara che udite udite ha raggiunto numeri stratosferici, oltre 80.000 accessi annui, quindi maggiore dell'ospedale Sant'Orso di Bologna. Problemi di gestione interna, purtroppo all'interno del pronto soccorso stazionano, vengono parcheggiati utenti per diversi giorni, ma perché? Per colpa dei medici? No, i medici, il personale sanitario io li voglio ringraziare, sono degli eroi. Purtroppo per mancanza di posti letto molto spesso chiamano il reparto e il reparto rispondono che non c'è posto letto, quindi impossibilità a ricoverare e si viene a creare un reparto nel reparto in pronto soccorso. Le immagini che il personale sanitario, medici, operatori sanitario, infermieri che dovrebbero occuparsi solo dell'emergenza, sono distratti anche per gestire un reparto all'interno del pronto soccorso. Faccio un esempio, somministrano pasti all'interno del pronto soccorso, di norma non si somministrano pasti, quindi la gestione diventa davvero difficoltosa e i pazienti rimangono. Altro problema è in uscita, molto spesso gli anziani che vanno in pronto soccorso dopo la prima fase di emergenza e urgenza devono essere trasferiti in una struttura di lungodegenza esterna, anche lì si crea il problema perché il personale sanitario quando chiama per ricoverare all'esterno una struttura gli rispondono che non ci sono posti, quindi questo è un problema serio, quindi io denunciavo tutte queste cose, facevo proposte dicendo di aumentare i posti letto ma anche incrementare il numero di personale, personale carente sappiamo tutti in pronto soccorso e quindi sono davvero contento e soddisfatto e ringrazio infinitamente la locale procura della Repubblica e i magistrati inquirenti perché hanno acceso un faro, per la prima volta si parla anche in termini giudiziari del sovraffollamento dell'ospedale di Pescara. Io non sono un giustizialista, sono un legalista e ritengo che questo faro acceso dalla procura di Pescara possa sollecitare le istituzioni a fare. Un grande appello a Regione Abruzzo, Regione Abruzzo che fa la programmazione e la pianificazione della sanità, non c'è più tempo da perdere, Pescara è un ospedale importantissimo, dobbiamo elevare l'ospedale di Pescara a DEA di secondo livello, altrimenti i problemi non li risolvono. La cosa che interessa di più, e lo ha detto, non solo interessa di più i cittadini ma interessa anche lei che ha presentato questo esposto, non è la sorte del processo, se ci sarà, è delle persone che risultano indagate, che avranno modo di difendersi nelle opportune sedi, perché poi è chiaro che quando c'è una di servizio, quando c'è una cosa che è ai limiti dell'interruzione del pubblico servizio, di reati di abbandono di incapace, alcune ipotesi che potrebbero poi essere contestate anche in sede di un processo, questa è una vicenda che seguiremo ovviamente nelle opportune sedi, però la cosa che interessa di più è questo tipo di notizie, questo tipo anche di imputazioni di responsabilità aiuterà a migliorare il modello organizzativo del pronto soccorso di Pescara, cioè il pronto soccorso di Pescara è stato inaugurato, il nuovo pronto soccorso non più tardi di tre anni fa, è una struttura dal punto di vista delle dotazioni anche moderna, innovativa, quello che l'inchiesta ha fatto emergere è che al di là dell'assenza del personaggio c'era proprio dei modelli di organizzazione che non funzionano, ecco, su questo Pettinari pensa di poter aver dato un contributo e soprattutto che cosa si aspetta adesso dalla ASL preso atto di quello che anche i magistrati contestano? Sì, io sono convinto che questa inchiesta è salutare per orientare la programmazione e la pianificazione, ecco per questo servono le inchieste, al di là poi delle responsabilità che in questo momento non mi interessano. Ora, questa inchiesta ha detto chiaramente alcune cose, che all'interno del pronto soccorso i pazienti non possono rimanere parcheggiati per 11 giorni, io ogni giorno raccolgo il grido disperato di persone che entrano e rimangono parcheggiati, allora bisogna risolvere quel problema, sappiamo come risolvere, sappiamo che per risolvere bisogna potenziare la medicina territoriale, sappiamo che i codici verdi e i codici bianchi dovrebbero essere trattati all'esterno, non voglio dilungarmi nel merito perché abbiamo poco tempo, sappiamo che dovrebbero aumentare dei posti letto, sappiamo che dovrebbero incentivare l'assunzione di nuovi medici, io l'ho detto quando ero vicepresidente del Consiglio regionale, i medici non partecipano in concorso in pronto soccorso, bene, stabiliamo che in busta paga vanno 500 euro in più, ai medici del pronto soccorso, altrimenti non ci vanno a lavorare in pronto soccorso, molto semplice, è tutta un'altra serie di cose. Ecco io le faccio su questo una domanda specifica così spiega, manca i nostri spettatori perché lei queste cose le sa, noi sappiamo che gli organici della sanità in Abruzzo, nelle ASE, sono formalmente a posto, cioè non vi sarebbero tante carenze di figure, però mancano i medici e gli infermieri e mancano i medici e gli infermieri in alcune realtà particolari, in particolare il pronto soccorso. Per questo cosa si può fare? Certo perché i bandi vanno deserti, diciamola chiaramente, si fanno degli avvisi dei bandi per assumere medici in pronto soccorso e i medici non accettano per una serie di ragioni perché in pronto soccorso impazzisci, il medico va davvero fuori di testa e perché ti becchi le denunce. Allora questo rischio, una volta esistevano le indennità di rischio, va pagato semplicemente, quindi i medici di emergenza e urgenza devono a mio avviso essere incentivati sotto un aspetto economico. Non c'è altro, ma queste cose che dico io le vado ripetendo a dieci anni, poi grandi esperti della sanità hanno detto la stessa cosa. Io poi, se mi consente, non mi sono limitato solo esclusivamente del pro soccorso, ho presentato anche un altro esposto importantissimo, ridepositato due volte in procura un mese fa sull'elisuperficie, riguarda anche l'elisoccorso, quindi il pro soccorso, ma lì si immagina che abbiamo ancora di fronte all'ospedale Pescara un elisuperficie completamente inutilizzata da dieci anni e l'elicottero si alza in volo, preleva il politraumatizzato, lo porta in aeroporto, lo scarica in aeroporto, entra in ambulanza e l'ambulanza deve passare in mezzo al traffico cittadino perdendo 15 minuti. Quelle sono patologie tempo dipendenti, significa che un minuto fa la differenza tra vita e morte. Anche questo non è più possibile, questa è una gestione completamente, possiamo dire, fallimentare della nostra sanità e poi le persone hanno paura, diciamo, hanno paura ad entrare nell'ospedale pubblico, nell'ospedale di Pescara, è la verità, perché la nostra gente ha paura? Perché dice entro in pronto soccorso, ci rimangono 6, 7, 8 giorni, invece di essere coccolati o sapere che lì trovi assistenza all'emergenza, il cittadino deve aver paura. Ecco, questo è un dramma, dobbiamo mettere subito mano, poi un accenno velocissimo e ricordiamo che sulla sanità ci sono tante inchieste, anche non solo questa, anche altre inchieste. Di cui ci occupiamo quotidianamente, che insomma mettono in luce delle vicende e poi avranno un loro sviluppo giudiziario. Naturalmente la sicurezza, Pettinari non possono chiederle tanto la sua preoccupazione più volte manifestata su quanto sta accadendo, in particolare in alcune zone di Pescara su questi incendi di autovetture, che sembrano fatti a caso, e la cosa probabilmente il fatto che non siano mirati, secondo lei perché è ancora più inquietante? È più inquietante, stiamo parlando ormai di una ventina di macchine andate a fuoco, messe a fuoco, bruciate, non so come definirlo ormai, comunque che hanno preso fuoco negli ultimi mesi, tra via Caduti per Servizio e via Aldomoro, allora io non posso più credere che le macchine da quelle parti prendano fuoco. Poi, soprattutto di notte, di notte gli esperti ci dicono che la combustione è molto difficile, ecco, quindi molto probabilmente c'è una mano criminale, ma a me nessuno me lo toglie dalla testa, naturalmente non posso sapere, non sono state accettate anche la dolosità di questi incendi, ma molto probabilmente c'è una mano criminale che sta lanciando dei messaggi, a mio avviso dei messaggi dell'istituzione, perché? Intanto perché si sta spingendo molto, a mio avviso, questa è la mia ricostruzione, io credo di poter immaginare che sia così, poi lo vedremo, vedremo naturalmente cosa ci diranno le inchieste, le forze dell'ordine, perché da tempo si sta spingendo sullo sfratto, soprattutto io, la mia forza politica, sul cacciare gli abusivi, delinquenti, criminali dalle case popolari, ma non si tratta solo di cacciarli dai case popolari, si tratta di chiudergli il fortino della droga, il luogo di spaccio, quando io dico cacciare gli abusivi criminali dalle case popolari, significa chiudere un fortino della droga, siccome devo dire che sto ricevendo delle risposte quasi positive da parte questa volta dell'amministrazione comunale che mi ha promesso che sta per ripartire la grande stagione degli sfratti, e io, se accade questo, ha dato un'apertura di credito, un'apertura di credito, pare che a brevissimo debbano partire questi grandi sfratti che vanno a colpire anche alcuni, davvero alcuni criminali, a cui io sto dietro da, mi lasci dire, da almeno 15 anni, alcuni boss delle zone, e io ritengo che possa trattarsi anche con questa ricostruzione così precisa, io non l'ho mai fatta, la sto facendo oggi qui in trasmissione, credo che possa anche partire da quella parte di criminalità dei messaggi chiari, come dire, ci togliete, ci cacciate dalle case, ci chiudete il fortino della droga, bene, mettiamo a ferro e fuoco la città. Non posso pensare ad altro, anche perché le vittime, i destinatari, sono persone normalissime, non sono persone che... Lei non vede dei momenti specifici sui singoli... No, perché non hanno partecipato attivamente, non è che sono attivisti delle grandi battaglie che stiamo facendo noi da anni, allora a quel punto tu dici, potresti pensare che si stia colpendo l'attivista sul campo, sono semplicissime persone, serie, oneste, che vivono del loro lavoro, magari tante di loro non hanno neanche denunciato, quindi si sta colpendo random e questo è ancora più inquietante, dobbiamo fermare questa mano. Allora, due minuti per parlare del movimento pettinari per l'Abruzzo, che si allarga sempre di più, guarda ovviamente alla sfida che ci sarà per la nuova città che nascerà tra poco più di un anno ormai, ma anche ad altre sfide amministrative, a partire da quella per Chieti, anche lì più o meno, visto che si temeva una conclusione anticipata della consigliatura che non c'è stata ieri, insomma si andrà avanti sicuramente con l'anno prossimo per le comunali. Quali sono i profili anche dei vostri candidati sul territorio, oltre alla sua leadership personale? Sì, grazie direttore. Intanto io mi onoro di presiedere questo movimento politico giovanissimo, civico, il movimento pettinari per l'Abruzzo. Stiamo ricevendo tante adesioni, abbiamo creato anche una struttura. Io all'inizio ho creato subito i coordinatori di aria, abbiamo i coordinatori di aria, abbiamo il coordinatore provinciale di Chieti, abbiamo tutti i coordinatori delle aree del Pescarese, Pescara, Montesilvano, Spoltore, stiamo operando, facendo tante azioni a tutela degli interessi generali della collettività, ma non solo, stiamo ricevendo adesioni da parte di associazioni e liste civiche anche di altre città, di altre realtà. Questa è una cosa bellissima e diciamola, noi siamo partiti da un risultato stratosferico, lei l'ha ricordato bene, proprio i giorni delle elezioni, il 13,08% per una forza civica che non ha alle spalle partiti, non ha grossi gruppi di finanziatori, non ha nulla, siamo soli contro il mondo, ci siamo presentati e arrivare al 13,08% nella città di Pescara io credo che siamo stati investiti in una responsabilità enorme, 8500 voti nella sola città di Pescara è una responsabilità enorme e quindi questa responsabilità naturalmente noi la stiamo portando avanti con grande spirito di dedizione, sicuramente siamo proiettati sulla nuova Pescara, questo è poco, non so cosa faremo a Chieti, a Chieti si sta strutturando il gruppo, nella loro autonomia naturalmente il nucleo locale poi si deciderà, ma adesso non abbiamo preso nessuna decisione per le amministrative di Chieti, sicuramente proiettati sì per la nuova Pescara e contiamo anche lì di allargare il nostro bacino, di presentare più liste civiche, anche una federazione, una confederazione di realtà di liste civiche senza nessuna preclusione, ecco noi la nostra preclusione è solo nei confronti dei disonesti della politica, ma se ci sono persone, persone attente, persone che si occupano del civismo, che si occupano degli interessi generali della nostra terra, benvenno le nostre porte sono aperte, ecco quindi io sono davvero orgoglioso, poi devo dire in Consiglio Comunale ci stiamo distinguendo per un'opposizione molto dura, avevamo promesso di fare un'opposizione che non fa sconti, devo dire che la nostra opposizione si sta rivelando un'opposizione davvero dura, davvero un'opposizione che è in continuità con tutto il mio percorso, qualcuno mi chiama ancora sceriffo, qualcuno ci dice che noi siamo quelli che non facciamo, no, noi siamo semplicemente quelli che vanno e stanno difendendo la cassa comune, la cassa forte comune, i soldi pubblici sono sacri, noi soprattutto come funzione di opposizione abbiamo il compito di tutelare al massimo il pubblico. Lei lo ha detto, se avrà la forza di cacciare chi deve cacciare dalle case popolari, lei applaudirà anche Carlo Masci. Ecco, lei ha detto una cosa seria, io ho detto che se tra pochissimo, a breve, mi hanno promesso, caceranno alcuni che io chiamo boss dei quartieri, dato che la mia interlocuzione è direttamente con l'assessore alle politiche della casa, che in questo caso è cremonese, io non ho una interlocuzione diretta col sindaco per una serie di ragioni, perché lui mi attacca sempre, però l'assessore con cui ho l'interlocuzione, se farà questa cosa, io darò atto, ne darò atto, ringrazierò e chiederò altre 90 sfratti, perché non bisogna fermarsi ad uno, però noi riconosceremo sicuramente quella cosa, naturalmente ancora sto vedendo i fatti, ecco, voglio vedere i fatti. Bene, però è bene dirlo, perché poi quando si prendono gli impegni, bisogna onorarmi. Grazie, grazie Domenico Pettinari per questa interessante chiacchierata, grazie ai nostri telespettatori e per la prossima occasione con il fatto, arrivederci.